Allora io sono Marcus Grana e signori e signori benvenuti in un nuovo episodio della Spacecraft Mi ruote tanto il culo Mi ruote tanto il culo perchè OBS e ho provato ad installare quello nuovo Mi ha fottuto due puntate Quindi adesso io devo fare un repilogo Ma a me ruote tanto 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 il sederino Signori e signori Ho fatto nell'ordine L'ultima quest di Della Star Alliance Ed è B2Pluto Perchè ho usato i sapiri Saphiri? Eccoli qua li ho smeltati E ho smeltati il 64 E ho fatto lo Star Harvest Quindi abbiamo concluso anche un'altra quest E' molto semplice nel momento in cui metti un cuore su Plutone effettivamente E ancora peggio Ho fatto i Grigori Guardate che bellini Ve li ho fatti tutti e li costruivo insieme a voi E niente ve li ho bruciati maledetto Adesso il nostro regatore è un po' più carino Ho messo qui una stella che ci ha dato il reward Che produce 10 migliori di RF totali Con 160 di output se non sbaglio 80 di output Vediamo un po' 80 di output E proprio perchè nella puntata La prima che mi ha bruciato OBS Grazie OBS ti voglio bene Ci aveva dato questa stella Mi son detto Ma perchè non facciamo anche Proviamo a fare le stelle più potenti In tutto questo In più Ho potenziato questa spada Gli ho messo sharpness 26 26 LOL Ci ho messo sharpness 5 Quindi io Vado a depositare la nostra Experience here Non mi dire che me la prendo Me la devo sciucciare tutta Ok E nella puntata dopo Quell'altra che mi ha fottuto Beh perchè non controllo mai Quando registro Questa è un'ottima domanda Abbiamo fatto Questa figata qua E voi ve le ritrovate già fatte Vedi questo che è un suntone Ho portato Di qua fuori Degli oxygen collector Delle foglie Tutto viene alimentato da questa Uh Fermati Perché 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 No 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 Via questa Ci mettiamo il nostro Bel ciccio Perfetto In output Vediamo un po' Perchè mi cala l'energia Mi cala Mi cala Mi cala Mi sta calando Sempre attivo In energia Batteria Out Ricevi Oh Ok Se ti faccio batteria in Sei più contento? Continua a essere scontento Ragazzi Non ho capito qual è il suo problema Forse non è ciancata quella zona Maybe I very don't know E vabbè Ci buttiamo queste qui Tanto Qual è la logica? È che Nello spazio Ovviamente Il fuoco Non ha ossigeno E quindi Si spegne Ma se mettiamo una bolla Con l'oxygen bubble distributor Di ossigeno Il fuoco di vampa Quindi ho fatto Una base di ossidiana Per prevenire l'esplosione Che già avevamo visto Varie varie volte Una Seconda base Di Netherstar Di Netherrack E adesso Vediamo un po' Se questa quantità di fuoco Ci abbasta Guardate Sta ciucciando il fuoco Attenzione Interessante E se io Te ne metto altro Cioè se Lo so che Tento il suicidio Però Se io te ne mettessi altro Tipo così Facessi tutto il tempo così Quanto Eh Vediamo un po' Guardate Guardate Sta ciucciando tantissimo Sta ciucciando È esplosa È esplosa Vediamo Uuu Una nana rossa Una red giant 50 milioni di RF A 40 RF Su tic E Sembra che L'ossidiana Abbia salvato Abbia salvato L'oxygen Uuu L'oxygen distributor Davvero Buono 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 Ragazzi Interessante Ora Era tanto il fuoco Però non se ne è sciusciato tutto Quindi Forse Forse se ne mettessi di meno Toro Toro Oh mi si è rotto il coso Però Però va bene Direi di accontentarvi Il problema grande è che Non ho Nether Rarp Quindi Posso fare Così Questa Va rotto qua sotto Perché purtroppo Sto ciccio Lo star harvester Prende Dà l'energia Da sotto Perché Vedete C'è il bochino Proprio sotto Ai lati Non la vuole E ci buttiamo dentro Lo star container E questa stella E adesso Rompendo qua Vediamo quanto Produciamo di energia 600 700 Perché questo qui Ha un buffer Dovrebbe arrivare a 40 Pesi ferma Current output max Non ci interessa 40 Perfetto 764 Rf Su tic Grazie a questo reattore Ah tra l'altro Questo reattore C'è un piccolo problema Che è che Quando Si Deplita Questo È vero Chissà se c'è una chest Che culo Mi ricordavo di avercela Mi ricordavo di avercela La mettiamo qui Così facciamo Che qui Inserisce E qui Evitiamo di Evitiamo di Andarcela dentro Disabilita E disabilita Perché si ferma Quando Questa cosa Si deplita E crea Non ce l'ho Presto Ve lo faccio vedere Subitissimo Ok Stiamo creando 726 EU Su tic Ci mettiamo questa E Voilà Signore e signori Ottimo lavoro Ora Mi serve Della netherrack Perché voglio fare Tentativi d'errori Voglio fare Una stella Importante Molto più importante In realtà Tra le stelle La più bellina Non è Lace il fade azzurra Perché è soltanto 15 rf su tic Ma è questa qua Dov'è? È la White Dwarf La lana bianca Che produce 50 milioni C'è C'ha un totale Di 50 milioni Ma per 160 rf Su tic Quindi Wow Tutte le altre Uh anche questa 160 La super giant Come si fa La voglio Anche la super giant Un bilione Di rf Quindi Ritornando a noise Di quest Io avevo fatto Questa stanzotta Questa sansotta Proprio Per tutte Le nostre Farmine di cose Sapete Quando Nei pack Normali Ti chiudi E ti metti a fare Un sacco di sabbia Un sacco di gravel Un sacco di Insomma Ecco un sacco Quindi rompiamo Un pochino qui Rompiamo le bolle Io non vedo Assolutamente niente Perché sono C-Eco No perché Non c'è la luce Oppela Oppela E abbiamo la nostra Stanzotta La nostra Stanzottittima Andiamo a rompere Un pochino Le bolle Anche con questo Ok 222 Ci siamo Molto bene Molto bene Marcus Krohna Allora Ci servirebbe Un pavimento Il pavimento È abbastanza Foda Letale Laboratory Block Vediamo quanti Ce ne ho ancora 160 La gallina Canta E che è che vi Dovo far vedere Ah Tra l'altro Di quella cosa Che vi dovevo Far vedere Che poi ovviamente Mi sono scordato Però adesso Mi sono ricordato Spero di non Riscordarmela Oppela La Ci sta anche Il fatto Che può essere Utilizzato Allora Andiamo a prendere Il deplete Deplete Eccolo qua Questo qui È Il carburante Consumato Dalla Fissione E come potete vedere Se lo mettiamo Nell'isotope Separator Ci ridà A small lump Of uranium 238 Questo era 235 Così possiamo fare La nostra fregnetta E vediamo un po' Se c'è una Recipe Con tutti quanti No Uh Aspetta 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 Col plutonio Ci dà Il mox 239 Quindi facciamo Un Isotope Dove cacchio L'ho messi Dove Merda Le ho messi Com'è che si chiama Allora Andiamo a vedere No questo che è Fission reactor Isotope Isotope Eh Ragazzi Dov'è Dov'è No Dov'è Ehi Ehi Dov'è Dov'è Che cazzo Ne so Dov'è Dov'è No perché non c'è Scusate Perché non c'è Nuclear Ma eccolo No questo è Electric Crusher Electric Furnace Reactor Generator È sparito È sparito Così Senza Colpo Ferire Questo che mi dà Il tbc fuel Devo provarlo Interessante Molto interessante Ragazzi mi è sparito L'isotope Antonio Forse l'ho messo Laggiù Forse qui No Qui di no Qua no Qua no È sparito Forse dentro 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 questa cesta Per caso No E va bene E va bene Marcus Crohn perde cose Oh mio dio Ci abbiamo ancora Un ricredibile Deficit Di energia Isoto Voi vedete qualcosa Di vicino A questo qui No eh Voglio morire Va bene Va bene Lo facciamo Facciamo così Grazie E poi Redstone Certo che sei Stronzo però Io sono convinto Che da qualche parte C'è E c'ho Paurissima Perché sono sicuro Che voi Lo vedete E mi dite Ah Andrea E si Probabilmente Che farete Così Perché siete Cattivi Allora Popopopopopopo Voila Voilà Questo già L'avevamo fatto Ma io lo rifaccio Volentieri Perché ci serve Eccolo qui Lo mettiamo Con vicino Così proprio Scende merda e ci buttiamo dentro il deplete, vai chicco sarebbe interessante fare un circoletto magico sarebbe davvero davvero molto interessante e io mi dimentico sempre di chiudere facebook quando registro allora ci da questo e questo questo qui ci da questo plutonium qua che cazzo di figata tutto quanto ragazzi qui servirebbe una serie solo sul nucleare, davvero perché a questo punto ok, altrimenti diventa thorium, nell'ossider va bene, questo qui diventa uranio, vate la pesca a seroli 32 ce ne da 3 ok, di questo qui è questo scarso, però mi ricordo di aver visto anche vedete plutonio molto interessante si, ma no era qui, scommetti che era qui no, non c'è sono salvo non mi sento così stupido uranium Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Questo qui è 38, questo è... No, è uguale. Aha! Quindi, eccolo qua. Ah, questo qui diverso si fa... Non si può fare così direttamente, ma ci va per forza questo, almeno per farne uno, il 35. Se ne usassimo tanto, di questi qui, però ho finito l'energia, lo so perché, se ne usassimo tanto di Small Lamp potremmo fare un oranion diverso, ma va bene, va bene, va bene, va bene. Sarebbe interessante fare un... L'uranio consumato va nell'isotope separator, si autocraftano quelli nuovi e riva dentro. Sarebbe davvero, davvero interessante. Ci posso pensare, ci penserò anzi. Eh, ragazzi, mi dispiace, ma il tempo a nostra disposizione per fare tutte le cose di qua è scaduto, lo faremo nella prossima puntata, purtroppo ho potuto far vedere quello che OBS me ha distrutto, quindi I'm very sorry, vi ruido tanto il culo anche a me, quindi alla salute vostra. Ci vediamo mercoledì, lasciate un pollicione, bella per voi.